Sono arrivato adesso al forzo, un po' con il franco, e bagno il trappuccio, il trappuccio. C'è il morto dentro, portanto lo diamo fuori. Lo grande tutta, sarà un'altra minestra con me. Non puoi lasciarlo lì, siete, eh? Tiriamo giù. Eh, non stai scherzando. Grillo, mi scusi. Perché giro senza piede io? Ci sono solo io, non c'è l'assalto. Posso farle qualche domanda? Allora, che cosa ne pensa della situazione, di quello che sta succedendo? Che ne pensa? Ha un piede finto? Ha un piede finto? C'è un portapiede in questo albergo? C'è un portapiede o no? Sì, sì. 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 Sì.